musica 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 bene a tutti ragazzi siamo tornati signori finalmente con un nuovo appuntamento del detto match a schiaffi su un elicottero madonna ragazzi ragazzoni siamo qua finalmente con il secondo appuntamento dopo anni anni luce siamo con carmen la vittima signori oggi che andrà a giocare ci vendrà i sgarazzoni da me e il buon fabio e luigi quindi ragazzoni siamo pronti ragazzoni comunque sta peggiorando questo siamo qua pronti ad andare a fare il detto match a schiaffi ovviamente ragazzi per questo appuntamento speciale due like due like signori 25 siamo prontissimi ragazzi scriveteci qua sotto nei commenti la prossima vittima se ciccio io mamma arinonna e lei ma di siano la famo giocare perché non so cazzi quindi ragazzi giochiamo nucleo detto match a squadre sei prontissima te lo dico subito ci sono anche le mappe non so è detto match a schiaffi è detto match a squadre così è nata e così morirà vabbè potremmo fare pure che ne so gioco dei schiaffi nooo ma come no qui sotto se vi piace il gioco dei schiaffi ogni volta che mori ho uno schiaffo o un carciunculo gioco dei schiaffi gioco dei schiaffi ci sta eh lo sai che se facciamo ragazzi se questo video arriva a cinquantamila like mi compro il caschetto e i guantoni da box facciamo code ogni morto incassato un poca senti ma perchè tu sta cagato un arbero perchèè si sta raccontando le fiabette che mi mi cos... senti sta merda poi esplode siamo arrivati con l'overcraft siamo pronti prenditi questa o questa o questa ma prenditi questa prendi questa o qualche mirino prendi questa qua siamo pronti vai amo tanto non ricordi che gioca no mi sembra non ha io mamma iolanda bene rega c'è uno che conosce quelli sono amici però io nel 2016 ne posso vedere queste cose sono amore una ragazza no no io me ne vado bene io sono la che bassa la tua gioca da sola una ragazza non fa così 35 anni cosa faccio te nonna ma non giocavo d'acchiappi scarassoni poi non so che gioca quanti quanti e 24 quanti cazzo d'anni c'hai 22 23 23 buce uno sembra una mancaccia cod no a meno c'è che cori fa fatti finte fatta o brava poi ma la quante le cose fatti le vie schiaffi e io me lo vedo in radio abbiamo detto che già si abbia dato gioca che se ne mette lui con radio a cazzo se frega oh vai brava mira mira perché sta qua dentro sicuro mira vai a dritta eccolo brava non so più chi è nabbo lei o lui bravo bravissima sta andando molto bene ma che sentiva la puzza quello sta sempre qua questo lo sai no no è andato via è andato via vai amore vai che non ammazzisi qualcuno è il nostro alleato quelli che ha scritto in blu testa sono alleati raga nonna iolanda che vuoi ma non c'è la manda acqua però che fatica c'è davanti amo due sopra che la è andato via devi devi l'occhio ma tu hai visto che ha fatto il contorno ma neanche arciocatura alla porta ma porco due ha sparato le lampadarie a sparare vuoi andare qui vai a sinistra avanti ce n'è uno mira a destra sentiamo mira mira ha mirato ha mirato è sparato con culo squalo per quanto la gente se tuffa fai capriole scivolare ancora 25 30 toccare l'accento ma dose rotture delle coglioni ma sei perché perché sta mappa è una secondo me dei più pallose appizzano fanno poi capire se sta giù a carmen carmen qua è chiuso ecco vai la dritta brava destra destra dentro qua sinistra qua dentro mira perché c'è davanti sicuro la sotto vai è trasparente io sono un ciclo robot e mo che fa? e niente se faccio la suscita vai ma tu pensa non so che è più scemo lei o lui va bene va bene vai qua sotto mira ma come ha fatto non vedo quella da sparare la davanti non sta fumando sopra mira un po' di più sopra al muro proprio grande no io me ne vado perché? che ho fatto? ti è che non c'è a sgabello è il nostro se non ti spara è il nostro si guarda a posto mi vedi colpi eccolo non posso aiuto non c'è possa sulla scala rimani puntata sulla scala eh ecco ti hanno visto vabbè no mira lì sei una caga sotto vai mira lì che sai che i compagni di squadra non morirai mai tranquilla spara spara sull'occhio sull'occhio è sempre lui non so vai sull'occhio sinistra sinistra a destra a destra a destra a destra mira sinistra eccolo lo sapevo boom boom dritto davanti a te ce n'hai una a sinistra vai eccolo a chi? a sinistra 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 a posto sono morta sono bloccata i sgabazzoni aia aia ecco qua stai tranquilla destra destra mira qui dentro no sinistra dietro dentro al tunnel lì davanti destra la vedi che muore la gente no non è che non è morto non l'ha preso li ricarichiamo rianima ma se tu non mi dici come mi devo rianimare tutta colpata ma che cazzo qua dentro c'è stato 78 gradi si si è quello con lanciafiamme è stato che sta la playstation madonna mia strano che sta bene ma stanno pure a vincere stanno pure a vincere hanno vinto tutto merito tuo tutto merito tuo oh è finita vittoria ho vinto tutto merito di carmen bravo è l'ultimo un tuo autore comunque signori che dire io questo appuntamento è meglio che finisci qua perchè ne la faccio già più a vedere questa giornata è una trista avventura no dai dai le mie guance eh tu volevo giocare e tu devi schiaffi signori mi raccomando sponici tantissimo 50.000 like ci facciamo il prossimo a schiaffi in più se arriviamo a 50.000 like compro il caschetto con i guantoni se fanno quello proprio se è preso 30 schiaffi quello hard mega paga proprio scrivete qua sotto nei commenti il prossimo che si va a sottoporre i sganassoni noi ci vediamo il prossimo video grazie a ciccio grazie a carmen che mi ha rovinato il radio bella signori ciao 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 ciao